da quanto è che non ti appare la madonna la madonna perché perché si un pastore e quindi a tutti i pastori appare la madonna ma con giochettano cosa è successo di farti affari tu hai capito da devi smettere di ascoltare i discorsi degli altri i discorsi degli altri sono discorsi anche miei no non sono discorsi tuoi dove sei sei venuta a sola si a piedi e da dove mi parla una domanda ogni tanto è il valese valse tutto tutto se fia il suo regolaggio che irradia toujours amore toujours toujours